Sì, cazzo lo faccio, lo faccio, sì, lo faccio, lo faccio. 3, 2, 5, 7, 4, 2, 1, 2, 1, 2. 3, 2, 5, 7, 4, 2, 1, 2. Salve signor passante, no niente, non lasci stare, non hai giornata. Ok, cosa è successo? Dai, su. No, praticamente io non ho soldi, io voglio fare il CD. Tutti mi chiedono, Erno, fai il CD? Quando è che fai il CD? Ma io non ho soldi per farlo. Eh, bisogna ammazzarsi per questo, no? Eh no, cosa c'è bisogno? Cosa c'è? Cosa c'è? Che soluzioni ci può essere? Music Racer. Cos'è? Music Racer. Music Racer? Sì. Tu ti crei il tuo progettino, ok? E chiede alla gente di finanziarti. Ma quello... Se il progetto piace, la gente ti finanzia E tu gli proponi qualcos'altro. Scusi signor passante, ma per caso è quello delle ricompense? Sì, la ricompensa, bravo. Ah, che uno può fare una serie di... Allora, vedi che sei pirla, perché se lo sapevi già, perché ti devi buttare? Ma io non lo sapevo, non sapevo come muovere, cioè... Eh, ma adesso... Devo chiedere aiuto a... Adesso chiedi aiuto alla gente, te lo facciamo fare il progettino. Aiutatemi a fare questo CD, allora. Esattamente. Per piacere. Grazie signor passante. Posto, quindi non ti ammazzi più? È controllato di arrivare i treni? Occhiala. Dovrebbe passare quello per la mia centrale adesso. Sì. Salve, grazie. Tutti. Sono un po' di giro. Gentilissimo. Ma figure. Figure. Se anche voi siete pregni di gentilezza come il signor passante, aiutatemi in questo progetto, il progetto di Erno per il nuovo CD, che grazie a MusicRazer spero vada in porto. Vada in porto. Sì, io ti do una lira. Sì.